la mountain bike è uno dei mezzi di trasporto più interessanti per la scoperta del nostro territorio permette infatti di muoversi velocemente sui sentieri e sulle strade poderali di fare attività all'aria aperta e di scoprire e coprire distanze poco tempo la mountain bike pedalata assistita ha ulteriormente allargato queste possibilità in questa puntata vi portiamo a scoprire luoghi e soprattutto persone che dedicano la loro vita alla valorizzazione delle straordinarie bellezze della Valle d'Aosto